Alcune persone ci fanno fermare, riflettere a bocca aperta perché sono riuscite a superare dei limiti che per la maggior parte di noi sono impossibili Mike Fremont è uno di questi un ultracentenario che conserva record mondiali in tutto il mondo e ha una salute sorprendente Ancora oggi nel 2024, all'età di 101 anni continua ad avere una mente acuta, un fisico sportivo e un entusiasmo e una voglia incredibile di vivere e goder la vita Mike è famoso perché a 83 anni ha battuto il record di velocità nel correre una maratona oltre gli 80 anni nella velocità sui 100 metri nella categoria tra i 95 e i 99 anni ma secondo lui il successo più importante è quello di aver continuato a correre per 63 anni di fila anche se lo ammette ultimamente un pochino di meno In questo video andiamo a scoprire insieme i 6 segreti della longevità di questo incredibile centenario che tra le altre cose è riuscito anche a superare un cancro quando la maggior parte dei medici gli dava solamente 3 mesi di vita Quando penso a Michael Fremont e alla sua salute e longevità mi viene subito in mente il libro Outlive di Peter Attia Peter Attia, che è un ricercatore americano molto stimato e conosciuto l'anno scorso ha scritto un libro che ho avuto la fortuna di leggere e in questo libro c'erano scritti dei consigli che sembrano proprio fatti a pennello su quello che fa Mike tutti i giorni Nel libro Outlive Attia parla di 4 cause principali di morte quelli che lui chiama i cavalieri della morte problematiche cardiovascolari diabete malattie neurodegenerative e il famigerato cancro questi cavalieri lo sappiamo bene prima o poi verranno a trovare ognuno di noi ma non vengono scrive Attia un giorno dopo l'altro un giorno per l'altro così senza motivo in realtà lentamente e progressivamente partecipano nella nostra vita fino a quando poi non arrivano a portarci via in effetti gli studi e le statistiche ormai sono chiare più passano gli anni e più è facile soffrire di un tumore di un cancro di diabete o di problematiche cardiovascolari o neurodegenerative ed è quindi l'età il fattore più determinante rispetto appunto a tutte queste patologie che poi ci porteranno alla morte una persona quindi non può scappare ai 4 cavalieri ma può posticipare il più possibile il loro arrivo e sono proprio delle strategie precise che possono shiftare il tempo in cui arriveranno i 4 cavalieri da un periodo che per la maggior parte di noi inizia a 50-60 anni a un periodo che può arrivare agli 80-90 anni e quindi portarti a vivere molto più a lungo la prima strategia per la longevità di cui parla Peter Attia e che anche Mike Fremont segue ogni giorno è quella di fare attività fisica, cardiaca nella zona 2 e nella zona 5 zona 2 significa fare attività aerobica che può essere una corsa, un nuoto o magari un giro in bicicletta secondo il dottor Attia bisognerebbe fare questo tipo di attività almeno per 30 minuti due volte alla settimana perché è un ottimo sistema per mantenere la capacità mitocondriale ovvero quelle piccole fornaci che sono all'interno di ogni nostra cellula e che ci permettono di bruciare i grassi, bruciare gli zuccheri e ci forniscono energia ma se oltre a questa attività nella zona 2 aggiungi anche attività nella zona 5 ovvero quello dell'esercizio vigoroso i benefici possono essere ancora maggiori perché è quello che comporta un'attività estremamente faticosa in cui i battiti del cuore salgono molto in cui fai veramente anche fatica a respirare ti viene il fiatone forte è quella di indurre la produzione di acido lattico che è un meccanismo per portare alla neogenesi mitocondriale questo termine neogenesi, nuova genesi dei mitocondri significa appunto la capacità del tuo organismo sotto sforzo di formare nuovi mitocondri e quindi avere ancora più fornaci per produrre ancora più energia che sono un ottimo tesoretto su cui lavorare quando si è giovani per poi averne tanti quando si avrà qualche anno in più la zona 5 aumenta anche la VO2 massima che è un parametro che definisce la capacità del tuo organismo di utilizzare ottimamente l'ossigeno e quindi ancora una volta di produrre più energia perché quando il corpo mantiene questa capacità il rischio di soffrire di diabete di problematiche neurodegenerative di cancro e di problematiche cardiovascolari si riduce proprio come spiegavo già in un altro video riguardante l'esercizio fisico vigoroso che puoi trovare cliccando qui in alto e cosa fa il buon Mike? tutti i giorni anche adesso cerca di correre almeno 5 miglia al giorno che sono all'incirca se non mi sbaglio 8-10 km consigliando e specificando però che le prime le corre sempre alla velocità massima proprio a quella zona 5 che tanto farebbe bene anche a noi la seconda strategia che utilizza Mike ed è consigliata anche dal dottor Attia è quella di aumentare la forza muscolare la forza muscolare è un parametro fondamentale e importantissimo tant'è che anche i ricercatori analizzano proprio la forza di prensione della mano come uno dei parametri più importanti da valutare per capire qual è l'aspettativa di vita di una persona gli stessi preti di paese ce lo potranno confermare quando venivano chiamati sul letto di un morente si facevano stringere la mano cercavano di capire qual era la forza della mano della persona per capire se era prossima aspirare oppure no rinforzare i muscoli quindi è essenziale a qualsiasi età ma sappiamo bene che dopo una certa età si fa più fatica a costruire nuova massa muscolare ed è per questo che ancora una volta vale la pena iniziare a 40 50 60 anni per avere più potenzialità e avere ancora una volta un tesoretto da utilizzare dopo il nostro Mike infatti ancora oggi continua a fare trazioni e flessioni sulle braccia terza strategia migliorare la stabilità se c'è infatti un problema un problema che uccide diciamo la verità uccide tantissime persone questo problema sono le cadute in casa non te ne rendi conto e magari inciampi su un tappeto scivola in bagno o magari ti gira la testa mentre stai cercando di rimettere un piatto sulla dispensa e poi cadi per terra questo può essere per tantissimi anzi è per tantissime persone l'inizio della fine perché cadono si rompono una gamba vanno all'ospedale prendono una malattia prendono un virus o magari un batterio che per la maggior parte come sappiamo bene può essere antibiotico resistente e finiscono magari per morire di polmonite o di infezione anticipando purtroppo di molti anni quello che è il destino di tutti migliorare la forza è sicuramente come dicevamo prima una strategia efficace per evitare queste cadute ma anche imparare a coordinare i muscoli attraverso esercizi di equilibrio di respirazione di flessibilità e di postura è sicuramente indicato esercizi come lo yoga il pilates o il tai chi sono indicatissimi e associati a una vita più longeva finita la parte dell'esercizio fisico sicuramente interessantissima e importante e che devo dire anche a me ha fatto cambiare qualche abitudine ho potuto aggiungere anche io qualche esercizio più intenso passiamo adesso invece a quali sono le abitudini alimentari migliori la quarta strategia come scrive il dottor Attia è quella della restrizione calorica ne abbiamo già parlato in passato si parla sia di digiuno intermittente sia di periodi di digiuno che possono essere di 3, 5 o addirittura 10 giorni non sono cose semplici da provare da soli perché ci sono anche dei rischi come per esempio la malnutrizione quel che è certo però che tanti studi fatti su animali hanno visto che ridurre le calorie assimilati di un animale ne aumenta la vita fino al 25 al 33 per cento ne parlavo anche recentemente in un video fatto sull'ormone FGF21 che se vuoi approfondire puoi trovare cliccando qui in alto questo ormone legato alla longevità ovvero più ne hai e più la tua spesa attiva di vita si allunga viene aumentato quando facciamo il digiuno e possiamo raddoppiare o quadruplicare i nostri livelli se raggiungiamo un digiuno che arriva fino a 10 giorni proprio perché c'è una forte restrizione calorica per tante di noi il digiuno intermittente è stato un sistema utile proprio per ridurre le calorie anche se ultimamente alcuni studi longitudinali ovvero che fanno una fotografia dell'ambiente attuale e chiedono alle persone se lo fanno o se non lo fanno e poi analizzano la loro aspettativa di vita ha fatto emergere che le persone che fanno digiuno intermittente potrebbero avere un'aspettativa di vita minore questa cosa deve farci riflettere e dobbiamo tenerla presente anche se ci sarebbe una spiegazione molto semplice infatti questo è uno studio longitudinale che non ci dice esattamente se il digiuno intermittente riduce la tua aspettativa di vita ma semplicemente metti insieme tutte le persone che stanno facendo digiuno intermittente e la loro aspettativa di vita e la loro percentuale di morte come si spiega allora questo dato? perché oggi principalmente chi è che fa digiuno intermittente? persone sovrappese, persone che magari hanno diabete persone che vogliono migliorare la loro condizione di salute che sono quindi persone più fragili con un rischio di morte maggiore rispetto invece a una persona sana ed è così che secondo me si chiude il cerchio e si spiega perché si trova una maggior mortalità in chi fa un digiuno intermittente lascio comunque il dubbio mi intendo essere a vedere altri studi a riguardo per capire se la mia posizione è giusta o se invece è sbagliata e devo aggiustarla a questo punto restrizione calorica ma qual è la dieta migliore? qual è la dieta che si consiglia? il nostro Mike, il nostro centenario ha le idee chiare per lui la dieta migliore è la dieta vegana e perché ne è così convinto? perché secondo la sua esperienza è quella che lo ha salvato da un tumore quando aveva 69 anni infatti gli è stato diagnosticato un tumore e i medici gli davano tre mesi di vita perché era già entrato nel circolo linfatico e aveva già creato metastasi Mike però dice fermi io mi metto a dieta e da tre mesi sono diventati due anni successivamente è stato operato per rimuovere il tumore e durante l'operazione i medici hanno constatato che non c'era più nessuna metastasi secondo Mike è stata quella la vera cura e anche il motivo per cui ha fatto così tanti record di corsa a livello mondiale vada bene però che questa è solo la sua esperienza e il suo punto di vista che deve essere confermato anche dalla scienza nonostante ci siano oggi sempre più studi che ci portino a quelle indicazioni intanto lo dico subito se soffri di un tumore non ti mettere a fare il fai da te o non pensare che con la dieta risolverai tutto ci sono situazioni uniche e specifiche come quella di Mike che sono arrivate oggi la nostra conoscenza proprio perché lui è l'unico che ne può parlare ma magari ci sono tanti che hanno fatto una scelta come la sua hanno seguito quella dieta questo cambiamento e sono morti e oggi non ce lo possono più raccontare certamente però anche dallo studio sui gemelli di cui ho parlato in un altro video che puoi trovare cliccando qui in alto sappiamo che far seguire una dieta vegana e dicendo alle persone che possono mangiare quante quantità di cibo vogliono tendenzialmente riducono le calorie nello studio sui gemelli in cui a un gemello si fa seguire una dieta vegana e all'altro gemello una dieta onnivora entrambi prima della dieta consumavano 2000 calorie al giorno durante la dieta il gemello della dieta onnivora ne mangia 1800 calorie riducendo quindi di 200 calorie mentre il gemello della dieta vegana ne mangia 1600 ovvero 400 calorie in meno entrando quindi in un regime ipocalorico che li porta anche a perdere peso circa un chilo e mezzo in due mesi e abbassare anche i livelli di colesterolo ripeto ancora una volta e sottolineo mangiando però tutto quello che voleva ristratto però alimenti vegani in cui viene escluso completamente ogni tipo di alimento animale come carne, come salami, come formaggi, come uova e come latte quinta strategia le proteine e qui dico le proteine non dico mangiarne di più nonostante nel libro di Peter Attia ci sia indicato che secondo lui sia estremamente importante mangiare più proteine oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica che la reazione giornaliera indicata sia tra i 50 e i 60 grammi a seconda del peso della Costituzione ma secondo Peter Attia questa quantità dovrebbe essere addirittura raddoppiata e il motivo perché da questo consiglio proprio per continuare ad avere la stessa massa magra o addirittura aumentarla queste sue affermazioni come scrive nel libro sono anche supportate da alcuni studi alcune volte addirittura dalle delle meta-analisi ovvero studi di altri studi che comprendono diversi studi scientifici ahimè però come ti ho dimostrato in un altro video che puoi trovare cliccando fin qui in alto dalla mia ricerca personale queste revisioni della letteratura sono state influenzate pesantemente dal fatto di essere finanziate dalle aziende produttrici di carne di maiale di carne di vacca di latte o di uova non c'è infatti ancora oggi uno studio che ci dica che chi mangia più proteine ha una vita più lunga o ha una miglior massa muscolare ma sono semplicemente delle congetture fatte da esperti pensando appunto che visto che per mettere sulla massa ci vogliono tanti grammi di proteine ed indicando quindi alle persone di mangiare più proteine durante i pasti sono convinto poi che questa indicazione sia sbagliata proprio perché recenti studi hanno invece sottolineato che in una persona anziana aumentare l'assimilazione di proteine anche con supplementi non porta nessun beneficio per quanto riguarda l'aumento della massa muscolare e l'aumento della forza quel che però sappiamo e per certo è che quando una persona segue una dieta bassa in proteine anzi con un livello di proteine normale ovvero 50-60 grammi al giorno per chilogrammo di peso aumenta i suoi livelli di ESFE-GF21 che è l'ormone della longevità e quindi al contrario di quello che scrive Peter Attia secondo me invece la dieta migliore è quella con una bassa quantità di proteine e a dire il vero lo stesso Mike conferma questa cosa indicando appunto di seguire una dieta vegana che di per sé è bassa in proteine in cui appunto aggiunge tofu aggiunge cereali aggiunge dei legumi che hanno proteine che quindi raggiungono il fabbisogno quotidiano di una persona ma senza mai eccedere troppo e per finire il sesto consiglio e di questo veramente apprezzo tantissimo Mike il fatto di continuare a coltivare relazioni con gli altri Mike Fremont infatti ha perso la moglie quando era giovane a 40 anni poi si è risposato si è divorziato e a 70 anni ha avuto una nuova compagna che dalle immagini che si possono vedere anche su YouTube o in televisione è una persona che si prende cura di lui e di cui lui si prende cura oggi infatti nel periodo storico attuale ma prospettivamente anche in futuro ansia, depressione e solitudini sono sempre più comuni perché è il capitalismo che ci mette in competizione l'uno con l'altro fa venire meno proprio che una delle cose invece per noi fondamentali ovvero la socializzazione e sentirci parte di un gruppo secondo uno studio proprio riguardante le relazioni chi ha 50 anni ha delle relazioni stabili a 80 anni ha un'aspettativa di vita maggiore o ha la possibilità di essere ancora vivo rispetto invece a chi ha 50 anni non ha alcuna relazione nello studio si parla di relazioni coniugali o relazioni di coppia ma possiamo ampliare questo beneficio anche alle relazioni sociali in generale e una conferma di questa cosa l'abbiamo proprio sullo studio fatto su Roseto che è diventata famosa per l'effetto Roseto questa cittadina che c'è in Italia ma è una cittadina in America fatta da rosetani che in Italia si sono trasferiti proprio negli Stati Uniti ha fatto aprire gli occhi e sorprendere i ricercatori americani perché gli abitanti di questa cittadina nonostante avessero le stesse abitudini nonostante avessero le stesse malattie di tutti gli abitanti della zona circostante vivevano più a lungo i ricercatori allora si sono chiesti ma come è possibile? bevono la stessa acqua fanno la stessa attività fisica mangiano le stesse cose hanno le stesse malattie di diabete e di sovrappeso ma vivono più a lungo la spiegazione è stata che a Roseto da buoni italiani avevano un tessuto sociale e delle connessioni sociali così forti da aiutare le persone a stare meglio e a vivere più a lungo purtroppo questa realtà che era presente negli anni 50 e 60 del secolo scorso ormai è svanita anche lì perché le generazioni successive non sono più riuscite a tenere questi legami e purtroppo anch'io sono pessimista riguardo a questo aspetto anche in Italia e in tutto il mondo accidentale perché come scriveva il filosofo Mark Fisher rispetto alla società attuale capitalistica queste tipi di malattie sono proprio legate al capitalismo che appunto cerca di metterci uno in competizione con l'altro invece di collaborare e creare un ambiente sociale migliore per tutti con questa ultima cosa e grazie all'esempio di Mike Fremont io penso di aver imparato veramente tante cose utili e che anche tu possa aver imparato per poterle mettere in pratica esercizio fisico prima di tutto aerobico, anaerobico, controesistenza una dieta bassa in calorie che non significa mangiare di meno ma mangiare cibi con meno calorie come appunto frutta, verdura, cereali integrali e legumi e questo voglio sottolinearlo non significa per forza essere vegani ma sicuramente fare questo tipo di scelta per la maggior parte delle volte nella tua vita se poi ti invitano a un barbecue se poi a Natale vuoi mangiarti le lenticchie col cotechino non a Natale, a Capodanno non credo non ci sia nessun problema ma senza dubbio però è la quotidianità che può farti molto molto male e per finire le relazioni sociali avere qualcuno con cui condividere le difficoltà avere qualcuno di cui prendersi cura aiuta sicuramente ad avere un obiettivo nella vita e quindi a vivere più a lungo adesso lascio la parola a te e ti invito a commentare qui sotto quali sono le tue esperienze quali sono le tue attività che già segui e che ti porteranno a vivere più a lungo quali sono i cambiamenti che vorrai fare commenta e condividi con la community così che tutti possano imparare qualcosa anche da te io prima di andare via ringrazio tutti i miei abbonati che ogni mese mi sostengono con un piccolo contributo e se anche tu vuoi farlo puoi cliccare qui sotto sul pulsante abbonati per oggi è tutto ciao e grazie